Entro il prossimo turno sarà pronto il piano di protezione civile aggiornato. E' stato firmato ieri il contratto per l'affidamento dell'incarico all'ingegnere Federico Sorgi che si è giudicato la progettazione per un importo complessivo pari a 21.397 mila euro di cui 3.000 sono fondi regionali. Il progettista dovrà occuparsi nell'ambito dell'aggiornamento del piano secondo le linee guida regionali, dell'analisi e procedure operative dei rischi presenti sul territorio, della redazione di relazioni, elaborazioni grafiche e cartografiche, schede operative di intervento, ricognizione di mezzi, materiali e attrezzature in dotazione alla struttura comunale, censimento delle aree d'attesa, ammassamento e accoglienza, valutazione delle idoneità di dette aree e costrui preliminari, atti a indicare le opere necessarie per rendere fruibili tali aree e quanto altro sia necessario per la redazione del piano. Sono previsti inoltre l'aggiornamento di localizzazione dei pericoli valanga o esistenti, lo studio dell'analisi della condizione limite per l'emergenza e l'aggiornamento del piano catasto incendi, che comprende la ricognizione delle aree, l'elaborazione degli atti e fini della posizione di vincoli. E nostra intenzione è mettere in atto un processo partecipato che coinvolga sia i consiglieri comunali che la cittadinanza, sottolinea il sindaco Anna Maria Casini, ricordando che si sta portando avanti in queste settimane in un percorso parallelo ma convergente il progetto denominato Comunicare per proteggere, che coinvolge 14 comuni del territorio, teso a migliorare strumenti e sistemi di comunicazione e informazione nella rete dei centri aderenti riguardanti la prevenzione e la gestione delle emergenze. L'aggiornamento del piano di protezione civile si è reso possibile anche grazie all'impulso dell'ex assessore comunale Antonio Angelone.